Grazie Presidente. Colleghi, io sono realmente allievito assistendo a questa discussione. Si parla, c'è la legge obiettivo che è un po' più snella nel valutare la verifica di impatto ambientale, ma una verifica di impatto ambientale bisogna farla alla svelta. Secondo me presenta delle criticità o le criticità della via dovranno essere valutate ampiamente per un progetto di questo tipo. E poi un ultimo appello a quello che è rimasto nel vostro partito relegato alla partecipazione dei cittadini. Non so cos'è rimasto, perché voglio dire un'opera di questa grandezza, di cui i cittadini saranno fruitori, ma anche senza raccolta firme, si comunica alla popolazione e si instaura un dibattito in tal senso. Grazie. Grazie. Grazie.